Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Questo è un piccolo video per aggiornarvi sull'andamento delle nostre piantine. Vi ricordate che abbiamo piantato i semini per farvi vedere come andiamo. Allora, qui abbiamo la Venus a Chiappamosche e qui invece la Drosera. Vi ricordo che per la Venus a Chiappamosche servivano dalle 4 alle 6 settimane e invece per la Drosera dalle 3 alle 7 settimane. Sono passate 4 settimane e vediamo se abbiamo qualche risultato, se possiamo vedere già qualcosa oppure ancora un po' presto. Allora, io vi faccio vedere quello che abbiamo qui. Questa è la Drosera e vedete che piano piano sta crescendo, sono passate 4 settimane e infatti le necessità dalle 3 alle 7 e quindi piano piano sta crescendo qualcosa, vedete? I germolici sono. Mentre la Venus a Chiappamosche invece non vediamo ancora niente di significativo. Questo perché le servono dalle 4 alle 6 settimane e sono passate solo 4 settimane quindi probabilmente ha bisogno di ancora un po' di tempo. Cosa ne dite? Beh, io sono fiduciosa, sicuramente vi farò degli altri video tra qualche settimana per vedere l'andamento, per vedere soprattutto se la nostra Venus a Chiappamosche riesce a crescere oppure no perché vi ricordate che va dei semini molto molto piccoli che era difficile piantare. Però io sono speranzosa, spero anche voi. Bene, questo era solo un video di aggiornamenti, ovviamente vi farò vedere tutti gli aggiornamenti anche prossimamente. Lasciatemi qualche commento se siete interessati a qualcosa in particolare, per darci dei consigli. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati con le novità e noi ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti!